L'inchiesta Sgominata gang albanese della cocaina Sequestrata a droga per mezzo milione di euro Spacciavano con i figli Regione Il masterplan all'Aquila fa sfiorare la rissa in consiglio Tra D'Alfonso e Pietrucci del PD Ospedale Mazzini di Teramo Una settimana dalla scadenza Già oltre 4.000 le domande per 60 posti di operatore socio-sanitario Università, servizi e convenzioni anche sanitarie Per rendere più confortevole la vita da studente Il gemellaggio Crognaleto e Venezia Insieme nel protocollo d'intesa Sorelle del gusto Sport e calcio Cruciani difende Vivarini E' un vincente Il team manager Peroni e il Teramo si separano Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Una gang di cittadini albanesi che gestiva il traffico di cocaina nel Teramano E' stata sgominata dall'inchiesta dei carabinieri del reparto operativo Sei le ordinanze di custodia cautelare in carcere Quattro gli obblighi di dimora Sequestrata droga per un valore sul mercato di quasi mezzo milione di euro Le riprese dei militari dell'arma sono eloquenti C'era chi spacciava alla presenza dei figli di due e tre anni Vediamo il servizio Dieci ordinanze di custodia cautelare Di cui sei in carcere E quattro misure di obbligo di dimora Con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Tutte rivolte nei confronti di altrettanti albanesi E' il bilancio dell'operazione denominata Elio Svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo E' coordinata dal PM Andrea De Feis E che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina Per un valore sul mercato di 500 mila euro L'operazione, illustrata questa mattina in procura Fa parte di una più vasta indagine Contro lo spaccio di stupefacenti sul territorio E per il procuratore dimostrerebbe Come sul territorio terramano Siano presenti vere e proprie ramificazioni criminali Prevalentemente di etnia straniera Dedite allo spaccio di grandi quantitativi di droga Si, si tratta di un'importante operazione Che è investigativa Effettuata dalla procura di Teramo Con la valida collaborazione del nucleo operativo carabinieri di Teramo Che ha portato alla missione di 10 misure custodiali 10 appartenenti all'etnia albanese Di notevole pericolosità sociale Che spacciavano sistematicamente cocaina principalmente Ma anche hashish nel territorio terramano I consumatori? I consumatori sono persone anche di notevole possibilità economica Per estrazione Perché poi ne facevano uso all'interno dei locali In compagnia di altri amici e quant'altro E quindi si era creato un sistema di spaccio sistematico Di quantitativi che abbiamo valutato complessivamente pari ad almeno 500.000 euro Di cocaina Che spacciavano a decine e decine di consumatori del terramano Con notevole allarme sociale anche nella popolazione E che dimostra ancora una volta come alcuni elementi di queste etnie albanesi Ma anche di altre etnie Stanno gestendo quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti Nella provincia di Teramo I malviventi spacciavano anche alla presenza di bambini? Sì Alcuni sopralluoghi investigativi sono emessi Che alcuni di essi mentre spacciavano Era una presenza anche di bambini di età tenerissima Due o tre anni Come siete arrivati all'individuazione di questo giro? È ovvio che l'indagine è stata portata avanti Attraverso un discorso di concorso E tutta una serie innumerevoli di riscontri che sono stati fatti Fermando le persone anche per singoli spacci Ovviamente ci sono state delle attività tecniche Che hanno portato anche ad elevare la nostra attività E a fornire ulteriori riscontri Tanto che poi tutto il comparto investigativo è stato raccolto in una informativa Che alla luce ha dato la possibilità di avere quest'ordinanza Con dieci persone arrestate E adesso ci occupiamo del Consiglio regionale Che si è tenuto oggi all'Aquila Quasi alla fine della seduta del Consiglio regionale Tornato all'Aquila dopo la parentesi invernale a Pescara Si è sfiorata la rissa tra il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso E il collega di maggioranza consigliere regionale Del suo stesso partito del PD L'Aquilano Pierpaolo Pietrucci I due tra lo stupore generale in aula Sono venuti quasi alle mani e sono stati divisi Tra gli altri dal Consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro E dall'Assessore alla Sanità e al Bilancio Oppure lui del PD Silvio Paolucci Lo scontro prima verbale poi degenerato Ha riguardato il Master Plan Il giovane Consigliere Aquilano Ha rimproverato al Governatore Di aver dimenticato nel piano di investimenti Le aree interne e l'Aquila Privileggiando l'area costiera e la montagna In riferimento soprattutto alle stazioni scistiche di Roccaraso La discussione è nata Mentre era in atto la votazione Sulla presidenza dell'Ersi Con i due che parlavano Tra gli scranni di Palazzo dell'emiciclo Appunto all'Aquila Tra i due sono volate parole grosse Con Pietrucci che ha tuonato ad Alfonso Tu con me il fascista non lo fai Rispetta la mia gente e la mia terra Secondo quanto si è appreso Alla fine i due si sarebbero chiariti Ma lo strappo potrebbe lasciare anche il segno Pietrucci infatti era stato Tra i quattro consiglieri di centro-sinistra Che ad inizio legislatura Avevano votato a favore della risoluzione Contro la chiusura dei punti nascita Presentata dalle opposizioni Mandando sotto la maggioranza Nelle passate settimane si era scontrato Con D'Alfonso il sindaco dell'Aquila Cialente Sulla nomina del direttore generale Dell'Asla provinciale dell'Aquila Tordera Manager di origini lombarde Voluto dai due Pietrucci propendeva per la scelta Di un medico operante Nell'azienda sanitaria Ancora il consiglio regionale Alla presidenza dell'Ersi È stata nominata una consulente di D'Alfonso Così consiglieri regionali di Forza Italia Sulla nomina di Daniela Valenza Alla presidenza dell'ente regionale Per il servizio idrico integrato L'Ersi appunto Con 16 voti Esclusi voti di Forza Italia È stata eletta Daniela Valenza Presidente dell'Ersi Un incarico certo prestigioso Di grande responsabilità Anche se è bene precisare Che andrà a ricoprire il ruolo Di commissario dell'ente Dicono i consiglieri di Forza Italia Non capiamo però in base a quali requisiti D'Alfonso e la sua maggioranza Anche se con qualche defezione Paolini non ha partecipato al voto Abbia scelto la dottoressa Valenza Non bastavano le professionalità Già presenti in regione? E al momento della discussione Del punto all'ordine del giorno Riguardante la nomina del garante Dei detenuti Il presidente del consiglio regionale Di Pangrazio Ha annunciato il rinvio dello stesso In attesa della convocazione In conferenza dei capigruppo Di Rita Bernardini L'esponente radicale A proposito di questo C'era stato un intervento a sorpresa Di Marco Pannella Sul radio radicale Negli scorsi giorni Ieri non si era sentito tanto bene E con voce stanca e strascicata Il leader dei radicali Da qualche giorno costretto a casa Per un aggravamento Delle sue condizioni di salute È intervenuto a sostegno Di Rita Bernardini Invitando il consiglio regionale abruzzese A votarla come garante Dei detenuti in Abruzzo Ritina Ha detto Pannella È sicuramente quella Che potrebbe meglio onorare Ciascuno di noi E la nostra storia Pannella si è poi congedato Con un saluto intera mano Dicendo alla radio State a Vavone Sono già 4.000 Le domande Per partecipare Al concorso Per operatori sociosanitari Bandito dall'Asel di Teramo Per circa 60 posti E il numero È destinato a salire Ad una settimana Dalla scadenza Dei termini Per partecipare Intanto l'Asel di Teramo Ha deciso Che nell'area antistante Il secondo lotto Dell'ospedale Mazzini di Teramo Oltre ai parcheggi Riservati ai dializzati Ai portatori di handicap Ci saranno gli stalli Per i donatori Di sangue Vediamo il servizio L'Asel di Teramo Ha trovato la soluzione Per i parcheggi Di dializzati Portatori di handicap E anche dei donatori di sangue Sì Soprattutto per dializzati E portatori di handicap Mentre per i donatori di sangue Abbiamo trovato questa soluzione Tampone Perché dopo il problema Risolto il problema Parcheggio multipiano Lo risolviamo lì Per i dializzati Dunque adesso Dove andranno A finire I donatori di sangue Intanto? I donatori di sangue Li mettono Cioè Tutta la parte Parcheggi Dell'otto due L'accesso Verrà limitato Limitato Al personale dializzato Con dei posti 15 posti riservati A persone dializzate Un'altra decina Di posti riservati Per il personale Portatore di handicap Dobbiamo lasciare Gli spazi Per i barellati E per le emergenze E tutti invece La parte sul retro Del fabbricato La lasceremo Sia per I donatori di sangue Anche perché L'accesso A i donatori di sangue È limitato Alle ore mattutine Della mattina E sia per coloro Che devono fare Le ribbibili Urgenti Medici Della cardiochirurgia Della anestesia Cardiochirurgica Lo spazio Sarà delimitato E ci saranno Delle sbarre Che vieteranno Il passaggio Come andrete A regolamentare La cosa? È molto semplice Per dializzati E portatori di handicap Perché finché ci saranno I posti Per i portatori Possono accedere Il problema è un po' Con un citofono? Sì Un videocitofono Una telecamera Di sorveglianza Ecco appunto Stiamo definendo Il tutto Anche con Per mettere Queste telecamere Di sorveglianza Esterno Di tutta La struttura ospedaliera Domani avrete Proprio un incontro Con i sindacati Che dovranno Dare l'ok In senso Dovranno I sindacati Dovranno darci L'ok Speriamo Che tutto vada bene Anche perché Sindacati Sono sempre sensibili Alle attività Della ASL E intanto State lavorando Sui concorsi Ne sono diversi C'è già Un primo dato Importante Per il concorso Degli OS La scadenza Per presentare Le domande È fissata Il 17 di marzo E sono già Arrivate Oltre 4.000 domande Per poco più Di 50 posti Sì Per quanto riguarda Come dicevi tu Il concorso Degli OS Siamo arrivati Ad oggi A circa 4.000 domande Prenotazioni di domande Perché noi La ASLi Teramo È la prima Che si è dotata Di uno strumento Di presentazione Di domande Online Infatti le domande Vengono tutte Presentate Da circa Da quando è uscito Il concorso Degli OS Tutte le domande Vengono per tutti I concorsi Si fa O la domanda Viene fatta online E di questo Dobbiamo ringraziare Tutti i dipendenti Del settore personale Che si sono prodigati Per far sì Che potesse Accadere questo Ecco E adesso ci spostiamo A Roseto La raccolta differenziata A Roseto Nei primi due mesi Del nuovo anno Ha toccato Quota 71% E quanto hanno illustrato Oggi gli amministratori Rosetani Confermando un trend In continua scesa Negli ultimi cinque anni E in pieno clima Elettorale Dati alla mano Sindaco e assessore All'ambiente Si sono impegnati A ridurre L'Atari Nel 2017 Vediamo il servizio Nel primo primestre Del 2016 La percentuale Della raccolta Differenziata Porta a porta Su tutto il territorio Di Roseto Degli Abruzzi Ha raggiunto Il 71% Un risultato Che sancisce Una crescita progressiva Negli ultimi cinque anni In cui si è passati Dal 6% Del 2011 Al 26 Del 2012 Al 33% Del bienio 2013 2014 Fino al 38% Del 2015 Quando il servizio Di raccolta Porta a porta E' stato esteso Dal centro di Roseto A tutte le frazioni Del territorio Fino a diventare Effettivo E completo Nello scorso autunno I dati sono stati Illustrati oggi Dal sindaco Ennio Pavone E dall'assessore All'ambiente Fabrizio Fornaciari Che hanno sottolineato La preziosa collaborazione Dei cittadini E il servizio Svolto dal comune E dalla Diodoro Ecologia Gli amministratori Rosetani hanno rilevato Quali passaggi fondamentali Verso questa quota L'avvio E la graduale Estensione Della raccolta Differenziata Porta a porta Dall'iniziale Fase sperimentale Del 2011 Prima alla zona centrale Della cittadina Poi nella frazione Di Cologna Spiaggia Con il completamento Della gara d'appalto Europea Nella primavera Di un anno fa E in autunno A tutto il resto Del territorio comunale L'aumento Della percentuale Di raccolta differenziata Ha consentito Nel corso del tempo Una drastica riduzione Di produzione Di rifiuto indifferenziato Non recuperabile Destinato alla discarica Infatti Rispetto al primo Bimestre del 2015 Tra gennaio E febbraio 2016 Si è prodotto Il 65% In meno Di rifiuto indifferenziato Tutti questi Importanti risultati Consentiranno A fine anno Di non dover più Pagare l'ecotassa Hanno aggiunto Pavone e Fornaciari Che si sono impegnati Ad una riduzione Della Tari Nel 2017 Qualora questi dati Venissero confermati E ora ci occupiamo Dell'università Con il welfare Studentesco L'università Di Teramo Organizza servizi Assistenza Anche medica Per rendere più Confortevole La frequenza Agli universitari Vediamo il servizio Per aiutare Ulteriormente Gli studenti All'università Degli studi Di Teramo Arriva la delega All'welfare Che è stata assegnata Al professor Corsi Esatto Che si aggiunge A quella Dell'orientamento In entrata E al placement Per meglio Supportare Gli studenti Dell'università Di Teramo In tutta la loro Permanenza Qui in Ateneo Dunque lei Che tipo di lavoro Dovrà svolgere Con questa nuova delega Tutta una serie Di attività Progettuali Affinché i nostri Studenti Vivano A pieno Durante i loro Anni Qui all'università Di Teramo Una piena Consapevolezza E crescita Del loro Percorso Sia professionale Che umano Quindi abbiamo Intenzione Di avviare Già Dalle prossime Ore Tutta una serie Di attività Progettuali Fortemente Innovative A supporto Dei nostri studenti Qualche esempio? Ma iniziamo subito Già dalla prossima Settimana Con tutta una serie Di convenzioni Penso Ad esempio A un A una struttura Di un servizio Medico Piuttosto che Psicologico Piuttosto Con Il confrontarci Con tutta una serie Di tematiche Che va dai Diritti A tutta una serie Di tematiche Fortemente innovative Più Avremo Avremo anche Il coordinamento Di tutte le Associazioni Studentesche Questa dimostrazione Che vogliamo Implementare Un percorso Fortemente condiviso Con i nostri studenti Di crescita Di importante crescita Per loro E per il nostro Ateneo La Genas Promuove La chirurgia Toracica Dell'ospedale Mazzini Di Teramo Tassi di mortalità Tra i più bassi D'Italia Il direttore Crisci Dice Eccellenze Locali Che devono Far riflettere Sugli inutili Pellegrinaggi Verso sedi Prestigiose Il servizio La sempre maggiore Esperienza Nell'utilizzo Di tecniche Chirurgiche All'avanguardia E sempre meno invasive Quali La lobectomia Videotoracoscopica Associata A un'attenta Valutazione Fisiopatologica E oncologica Del paziente Da assistere Stanno regalando Al reparto Di chirurgia Toracica Dell'ospedale Mazzini Di Teramo Grandi soddisfazioni A livello nazionale Una di queste È relativa All'ottimo posizionamento Nella graduatoria Dei centri operatori Con il più basso Indice di mortalità Post intervento chirurgico Il reparto diretto Da Roberto Crisci Ha fatto registrare Secondo i dati diffusi Dall'Agenzia Nazionale Per i Servizi Sanitari La Genas Uno 0,93% A un mese Dall'intervento Numero di assoluto Rilievo Se paragonato Ad una media Tra l'1,5 E il 3% Di altri centri italiani Anche sedi prestigiose Della chirurgia Toracica Del paese Un risultato Che non nasce a caso Se è vero Che il reparto Del Mazzini di Teramo È capofila nazionale Del registro E gruppo di studi Sulle Vaz Lobectomy Gli specialisti Lavorano infatti Alla tecnica Delle lobectomie Videotoracoscopiche Mininvasiva E di grande precisione Chirurgica Questo indice Questo indice Il commento del primario Il dottor Crisci Colloca la nostra unità Operativa nettamente prima In termini di qualità Di assistenza In Abruzzo Ma anche nei primissimi Posti nazionali E devono far riflettere Tutti su quelle che sono Le eccellenze presenti Ed operanti In casa propria Prenderne coscienza E attribuire loro La giusta fiducia E considerazione Una notizia Di cronaca Due individui Due uomini Armati di pistola Con il volto Travisato Italiani Sono entrati In un ufficio postale Di via Piemonte A Martinsicuro Ed hanno arraffato Il denaro Dalle casse Per un totale Circa un migliaio Di euro E subito dopo Sono fuggiti Questa è la notizia Di cronaca Proprio Di questi momenti Il Parliamo di Teramo Il vecchio Fabbricato all'interno Della stazione Ferroviaria Di Teramo Deve essere recuperato E destinato A sede di quartiere Lo sostiene Alberto Melarangelo Consigliere comunale Del PD Che sul teatro romano Aggiunge Presto chiederemo Al presidente Della regione D'Alfonso Di intercedere Presso il ministro Franceschini Per finanziare Il recupero totale Del monumento teramano Del resto Conclude Melarangelo D'Alfonso E non il sindaco Riesce a portare Fondi Alla nostra città Sentiamo Alberto Melarangelo Si è occupato Di questa struttura Che insiste All'interno Dello scalo ferroviario Teramano Ma si sta occupando Anche del teatro romano Allora le due questioni Sono questioni Di importantissima Rilevanza urbanistica E di prospettiva Per la città Questo Si tratta Un manufatto Un manufatto Di archeologia Industriale Che ha più di cento anni Che insomma Volevano demolire Un po' Alla buona Quando hanno realizzato Quest'area Parcheggio Io dissi Che prima di Demonirlo Bisognava Intanto Allertare La sorrintendenza Perché si tratta Di un bene storico Ma poi Poteva essere E può essere Adesso Ancora di più Uno spazio Per il quartiere Uno spazio Per il quartiere Come accade In tantissime altre Città italiane Non vedo perché Teramo si debba Sempre far riconoscere E invece Per il teatro romano Ci sono ulteriori Ungaggini? Insomma C'è il sindaco Che secondo me Sta sbagliando Perché fa questi proclami Dicendo Ho scritto a Renzi Ho scritto al ministro In realtà In passato Sono stati fatti È stata fatta La semplice propaganda Cioè I famosi protocolli D'intese Le firme Tra Chiodi E il ministro Firme Alle quali Non corrispondeva Nessun finanziamento Quando siamo andati Dal ministro Dei beni culturali Che per la prima volta Dopo tanti governi Ha rimesso soldi Sulla cultura Ci ha detto Sì il protocollo c'è Ma è una semplice Dichiarazione Vuoto di soldi Non c'è nessuna risorsa Quindi il ministro Prima di Tornare qui A fare A perdere tempo Deve giustamente Come ci ha detto Trovare E reperire Le risorse utili A iniziare Il lavoro Avete sollecitato Magari tramite la regione Tramite Ad Alfonso Adesso insieme Io contatteremo Come gruppo consigliare Come partito democratico Di Teramo Il presidente della regione Che sta facendo Il supplente Nella città di Teramo Perché lui Sta portando finanziamenti Sta attivando Progetti strategici Anche sul teatro romano Gli chiederemo Insieme Di farsi l'atore Di un intervento Sul ministro E quindi torneremo Dal ministro E ci porteremo Anche il sindaco Ci porteremo Con noi il sindaco Restiamo a Teramo Ancora polemiche In merito ai lavori Di sistemazione Della palestra Di Villa Pavone L'intervento Questa volta È di Giuliano Lucenti Che è il presidente Del comitato di quartiere Villa Pavone Con l'atterrato di Teramo Ha scritto una nota La leggiamo I cittadini del quartiere Il comitato di quartiere Avevano il diritto Di essere informati O quantomeno Essere consultati Non si può attingere Un finanziamento pubblico Regionale Di 470 mila euro Per la riqualificazione Di una struttura sportiva Polivalente Adducendo una finalità sociale Allo scopo Di essere posta A disposizione A servizio Dei cittadini Del quartiere E poi successivamente Essere data in gestione Ad un'associazione Di ginnastica artistica Attività praticata Quasi da nessuno in zona Scrive Lucenti Tra l'altro Con un canone di affitto Anno irrisorio Sempre secondo Lucenti Privando di fatto L'utilizzo Della struttura Realizzata con fondi pubblici Alla collettività A auspicò Conclude la nota Il presidente Del comitato di quartiere Villa Pavone Colle Atterrato Che l'amministrazione Comunale di Teramo Non ha adotto I comportamenti Altrettanto autoreferenziali Anche per il progetto Relativo al sottopassaggio Di Villa Pavone I cui lavori Dovrebbero partire Entro l'estate Per i quali Sono stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro Se così fosse Sarebbe davvero Un errore Imperdonabile Il capitano Roberto Petroli È il nuovo comandante Del nucleo investigativo Del reparto operativo Provinciale Di Teramo Petroli Quarantenne originario Del barese Proviene da Campobasso Dove ha comandato La locale compagnia Negli ultimi tre anni e mezzo In precedenza Dal 2009 Il capitano Aveva comandato L'aliquota investigativa Del comando provinciale Dei carabinieri di Foggia Distinguendosi Per l'azione di contrasto Alla criminalità organizzata Sull'esperienza Di quanto fa Nei mesi precedenti Durante il suo servizio A Cosenza Le sue indagini in Puglia Favorirono nel 2010 L'arresto del boss Libergolis Inserito nell'elenco Dei dieci latitanti Più pericolosi D'Italia Cambiamo argomento Al via il gemellaggio Tra il Gran Sasso E la Laguna Da domani a sabato Una delegazione Del comune di Crogna Leto E dell'istituto alberghiero Di Popparozzi Di Teramo Sarà a Venezia Per la firma Di un protocollo D'intesa Con l'associazione Veneziana Albergatori Per avviare Progetti di alternanza Scuola Lavoro Il servizio Crogna Leto E Venezia Diventano Sorelle del gusto Per il momento Diciamo sì Sorelle del gusto L'undici di Questo mese Venerdì Sarà una giornata Importante Dove il comune di Crogna Leto La provincia di Teramo L'Abruzzo Con il supporto Dell'università E ovviamente Con la grande struttura Del di Popparo Alberghiero di Teramo Andiamo a Venezia Portando i nostri sapori Le nostre bontà Sarà un momento Di estrema importanza Non solo per il mio comune Ma insomma Per tanti ragazzi Perché in quell'occasione Firmeremo un protocollo D'intesa Con l'associazione AVA Per portare poi I ragazzi stessi Negli alberghi veneziani Per appunto Cercare di formarli E inoltrarli al lavoro Voglio ricordare Che Venezia È la città dell'industria La città del turismo E quindi Buoni propositi Per i nostri ragazzi Tutto ciò è stato possibile Grazie Intanto Come ho detto All'istituto alberghiero A coloro che hanno Patrocinato l'evento Ma soprattutto Al consorzio BIM Al presidente Al suo esecutivo Che ha fortemente voluto E condiviso L'iniziativa Che ha fatto Il comune di Crognaleto Come si inserisce L'alberghiero In questo progetto? Allora L'alberghiero Si inserisce Perché Siglerà Con il comune di Crognaleto E l'associazione Veneziana e albergatori Un protocollo D'intesa Per attività Di alternanza Scuola-lavoro Il primo step Di questa attività Sarà appunto Un evento promozionale Organizzato All'interno Di un albergo Di Venezia Quindi una cena Chiaramente preparata Dagli insegnanti E dagli studenti Dell'istituto di Poppa E a fianco Ci sarà Una degustazione Dei prodotti Di eccellenza Del nostro territorio Saranno presenti Proprio i produttori Che saranno diretti Testimonial Del nostro territorio Come Montecchia Fracassa L'Alpino La Tacchinella Di Domenico Antonio Della loggia Tassoni Tartufi Del Colle Castelcastagna Per i vini Abbiamo Masciarelli Nicodemi Biaggi E Cioti Come vedete Le eccellenze Del nostro territorio Eccellenze produttori Eccellenze Dell'istituto di Poppa Rozi Come raccontare il corpo Il tema del corso Di scrittura creativa Che partirà All'Università di Teramo Il prossimo 5 aprile Sono dieci Gli incontri previsti E tra i nomi di spicco Ci sono Grazia Scuccimarra Filippo Laporta Ed Edith Bruc Il servizio Il Centro di Cultura Delle Donne Anna Arendt E l'Università degli Studi Di Teramo Hanno promosso Un corso di scrittura Creativa Qual è il tema? E come raccontare il corso? E come raccontare il corso? Sarà tenuto Dallo scrittore Andrea Carraro E partirà il 5 aprile E si concluderà Il 7 giugno Il corso è articolato In dieci lezioni Ogni lezione Avrà un incontro Quali sono gli appuntamenti Di punta di questo corso? Gli appuntamenti di punta Intanto torna Edith Bruc Il 4 maggio Sui corpi Nei Lager Nazisti Edith Bruc È Molto nota È Molto amata Dagli studenti Teramani E poi Ci sarà anche Grazia Scuccimarra Con lo spettacolo Noi le ragazze Degli anni Sessanta Quali saranno le caratteristiche Di questo corso? Allora Questo è un corso Anche tradizionale Nel senso che cercherà Di 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 Così Di Formare Gli allievi Al racconto Quindi Alla capacità Di scrivere un racconto Di scrivere una narrazione Alla fine Di questa Di questo corso Che durerà 10 lezioni Produrremo Un'antologia Di racconti Questo straordinario Per la qualità Dei relatori Per la qualità Dei docenti Per il coordinamento Che viene assicurato Da Andrea Carraro E per il partenariato Con cui è stato Realizzato questo corso Il centro Anna Arendt L'Ateneo Non può che ringraziare Il centro Anna Arendt Nella persona Di Guendalina Di Sabatino E Andrea Carraro Come coordinatore Del corso Confindustria Abruzzo Organizza Il convegno L'impresa Interroga La giustizia Si terrà Venerdì prossimo Alle 10 Presso l'auditorium San Carlo Di Teramo L'evento Vedrà la partecipazione Del presidente Di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone Del vicepresidente Del consiglio superiore Della magistratura Giovanni Legnini Del neosottosegretario La giustizia Federica Chiavaroli Del presidente Della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso Del direttore generale Di Confindustria Marcella Panucci Del presidente Presidente della sezione Specializzata Per le materie Di impresa Del Tribunale Di Milano Marina Tavassi Del sostituto Procuratore Della Repubblica Di Chieti Giuseppe Falasca E del sindaco Di Teramo Maurizio Brucchi Moderatore Dei lavori Mauro Tedeschini Direttore Del quotidiano Il centro Al termine Un'attività di due associazioni Di due associazioni di volontariato Il volume di concezio Del principio Che sarà presentato Venerdì prossimo Nella sala polifunzionale Della provincia Serve a sostenere Le attività Di obiettivo ABBA Di Atri Per l'autismo E l'Unione Italiana Cechi Di Teramo Sì Il libro Di composizione dialettale Che si intitola De preoccupaci Penzie Raccoglie Dei brani dialettali Che riguardano La quotidianità Spaccati di vita Quotidiani Che vanno Dalla discriminazione Dalla mancanza di lavoro Dalle cose quotidiane Familiari Tra rapporti Moglie e marito Ma sempre In modo sarcastico Leggero Ironico Con la battuta finale In modo che Arrivi al lettore Un messaggio Importante Ma in forma leggera I fondi Saranno devoluti Anche all'associazione Obiettivo ABBA Che lei stesso Ha fondato Perché lei È papà Di un bambino Autistico Sono padre Di un bambino Autistico Con situazioni di gravità Quindi una forma Abbastanza grave Dopo le varie Diciamo peripezie Peregrinaggi Nei non so come Italiani Non aver raggiunto Nessun obiettivo Sostanziale Siamo rivolti Agli Stati Uniti E quindi Tramite questo Metodo americano Perché la dottoressa Si chiama proprio ABBA ABBA Applied Behavior Analysis Analisi applicata Al comportamento È venuta la dottoressa Americana a casa nostra E abbiamo iniziato Questo percorso Che ci ha dato Dei risultati Veramente incredibili E quindi abbiamo pensato Che con la nostra Testimonianza E cercando di abbattere I costi Che sono elevati Per quanto riguarda La dottoressa americana Di aiutare anche altre famiglie Che hanno lo stesso Problema nostro Perché si trovano In difficoltà Perché avere un bambino Con autismo Significa Restare tra le quattro Mura di casa E non sapere come Affrontare il problema È venuto a mancare Nella giornata di oggi A Teramo Piero Cordone Molto conosciuto In città Tifosissimo Al Teramo Calcio Cordone è morto Questa mattina All'ospedale di Teramo Dove era ricoverato Da lunedì sera Quando alla guida Della sua auto In zona Piano Daccio Aveva accusato Una emorragia cerebrale La famiglia del defunto Ha dato l'assenso All'espianto Degli organi Sabato scorso A Sulmona Il coro Sinenomine Di Teramo Ha avuto l'onore Di potersi esibire Con un repertorio Composto Da Larry Alan Smith Direttore d'orchestra E compositore Di fama internazionale Il servizio Il teatro comunale Maria Caniglia Di Sulmona È stato degno Scenario Dell'incontro Con il compositore Statunitense Larry Alan Smith Nell'ambito Della sessantatresima Stagione concertistica Organizzata Dalla camerata musicale Sulmonese L'esibizione Del coro Sinenomine Che ha eseguito Un repertorio Composto proprio Dal maestro Smith Per l'occasione E per questo coro Si è articolato In una prima parte Di musica sacra Nella quale sono stati esposti Cinque salmi E l'avemaria A cui sono seguiti Tre madrigali E si è concluso Con un omaggio Alla città di Sulmona Nella manifestazione Sulmonese Il maestro Smith Ha voluto affidare La sua musica A musicisti E cantori Del panorama musicale Aburzese Sandro Carbone Al flauto Piero Binchi Al violino Massimo Magri Al violoncello E al coro Sinenomine Di Teramo Diretto dal maestro Ettore Sisino Ho sentito il coro Due anni fa E' un buonissimo coro E mi piace molto Il lavoro Del Ettore Sisino E mi piacciono I membri Del coro Ho pensato Forse Nuovi brani Per coro E perché no Con le voci femminili So Ho scritto Quattro pezzi E' molto interessante Per me Perché ho scritto Molto per coro Ma non per un coro Solo delle donne So Molto interessante E adesso andiamo a scoprire Insieme Prima della pagina sportiva La previsione del tempo Per la giornata Di domani Con Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo Al mattino coperto Con locali deboli Nevicate Specie Sui settori litoranei Neve Oltre 950 metri Nel pomeriggio Nuvoloso Con deboli piogge Nevicate Al di sopra Dei 950 metri Tra sera e notte Coperto Con neve forte Sulle zone interne E sui rilievi Nuvoloso Sulle zone marittime Quota neve Sui 950 metri Temperature stazionarie Massime comprese Tra 7 e 10 gradi Nelle conche Aquilane marsicane Tra 15 e 18 gradi Sulle pianure adriatiche Venti moderati Nord occidentali Mari calmi O quasi calmi In provincia di Teramo Al mattino coperto Con locali deboli Nevicate Specie Sui settori litoranei Neve Oltre i 1100 metri Nel pomeriggio Nuvoloso Con deboli piogge Ovunque Nevicate Al di sopra Dei 1100 metri Tra sera e notte Nuvoloso Con deboli piogge Specie Lungola dorsale Quota neve Sui 1100 metri Temperature stazionarie Massime comprese Tra 10 e 13 gradi Nelle pianure D'entroterra Tra 12 e 15 gradi Sulle coste Venti moderati Nord occidentali Mari quasi calmi Eccoci alla pagina sportiva Cominciamo con il calcio Con il teramo Alessio Peroni Non è più il team manager Del teramo calcio L'ufficializzazione Dell'addio Tra il dirigente Ascolano E la società Del patron Campitelli Arrivata questa mattina Con la firma Sulla rescissione Del contratto In scadenza A giugno Finisce così Dopo 5 anni L'avventura L'avventura al teramo Peroni Che in queste stagioni Aveva ricoperto Più mansioni Dalla responsabile Marketing A addetto stampa Fino all'attuale ruolo Di team manager Con una nota stampa Apparsa nel pomeriggio Sul sito ufficiale Il teramo Ha ringraziato Peroni Per l'impegno profuso In 5 stagioni Ricche di successi E ha augurato A lui Un futuro denso Di soddisfazione umane E professionale Peroni Con un post apparso Sul noto social network Si è congedato Da teramo Ringraziando tutti Giocatori e staff tecnico Un ringraziamento particolare Andato al presidente Campitelli Per avermi offerto Ha scritto Peroni La possibilità Di crescere in questa società E diventare Un uomo migliore Basta con le polemiche Vivarini E un allenatore vincente Non ha dubbi Il centrocampista Del teramo Cruciani Che aggiunge Che sia la Juventus O la Carraresi Dobbiamo scendere in campo E fare nostra La prossima partita Sentiamo Intervenuto in conferenza stampa Il centrocampista Del teramo Michel Cruciani Ha parlato di motivazioni Per questo finale di campionato Il giocatore A chi dice Che possano mancare stimoli Vista la posizione di classifica Risponde così Ma no Quello no Assolutamente no Perché Altrimenti Che stiamo a fare qui Quindi Il nostro compito Il nostro dovere È quello di fare 9 partite 10 partite Al massimo Cercare di vincerle tutte Poi quello che succede Vediamo D'altro è quello che proviamo A fare tutte le domeniche Poi ti può riuscire meglio Ti può andare peggio Però L'impegno Penso che questa squadra Noi siamo mancato Dobbiamo osare di più Ha poi aggiunto Riferendosi alle conclusioni Della distanza Quando gli avversari Si chiudono bene E non si riesce a proporre Fino in fondo La propria filosofia Di gioco in campo Sicuramente Dobbiamo osare di più Quello sì Perché Quando Dobbiamo essere intelligenti In capire Quando le cose Non arrivano Come vogliamo noi Come il mister chiede Di impostare il nostro gioco Che sono le nostre caratteristiche Dobbiamo Sicuramente osare di più Provare Nel calciare da fuori Nel Nel Negli inserimenti Nel In qualsiasi cosa Ecco Sicuramente Quella potrebbe essere Una soluzione Cruciani Ha parlato anche Di mister Vivarini E dei suoi compagni Il mister è una persona Che Che cerca Di Di Come posso dire Di 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 curare i minimi particolari Sempre Sempre Sotto Qualsiasi partita Qualsiasi allenamento Lui lavora in base All'avversario Che Che verrà poi sabato No Quindi fondamentalmente È la stessa persona Mi dispiace Sentire tante Sai Piccole voci Che possono Da fastidio Perché Io sono arrivato Ripeto Sono arrivato da poco Però sentire La gente Che critica Anche Ragazzi Che L'anno scorso Erano idoli Potevano fare statue E in questo momento Criticarli Mi sembra un po' Sbagliato Ecco Il discorso poi Non poteva non scivolare Verso il prossimo avversario Dei diavoli La Carrarese La Carrarese Purtroppo mi è capitato Anche a me In passato Di trovarmi In una situazione del genere E posso garantire Che in quelle difficoltà Ci si unisce Però Non c'è denesse per nessuno Che sia Carrarese Che sia Juventus Che sia Ripeto Dobbiamo farla nostra In qualsiasi maniera Che sia Sia che siamo belli Che sia che siamo brutti Dobbiamo farla nostra E adesso parliamo di Serie D Ci spostiamo a Giulianova Dove è sempre alta La tensione Nella notte di sabato Allo stadio Fadini È stato tagliato Con una sega Il palo sinistro Della porta Sotto la curva Ovest Vediamo il servizio Siamo sul luogo del delitto Ma in realtà Il palo del delitto Non è stato commesso Completamente Il palo Il palo di sinistra Della porta Ovest In basso È stato segato Segato a quale scopo? Per far crollare tutto? Magari il portiere Che si appoggiava Alla traversa? Perché in realtà Questo è stato scoperto Nella notte Sotto scoperto ieri Ma secondo alcune voci Attendibili Che poi quando se ne parla Si dice che L'attentato sarebbe accaduto Addirittura Prima della gara Con la San Benettese Nella notte Tra sabato E domenica Ecco perché Il pericolo Che il portiere Appoggiandosi Poteva Sporre come fanno Molti portieri Che si aggrappano Alle traverse Potesse crollare Tutto l'armamentario Oppure un palo Una cosa pallonata Non si sa Insomma la partita Si è rischiato Si è rischiato Nella gara con la San Che cosa è successo? Perché è sicuramente Un vandalismo È un gesto di protesta Per tutto quello Che sta accadendo A Giulianova Dove non c'è né capo Né cosa Non si sa Da dove cominciare L'unica cosa certa È che purtroppo Ci si avvia Inesorabilmente Lentamente Ma Pursopo è così Inevitabilmente Diremmo Anche se si sarebbe Potuto fare molto di più Verso la retrocessione In eccellenza Eh E questo palo Rimarrà Come simbolo Di questa Grave Stagione Disgraziata Le decisioni del giudice sportivo E Federico del Grosso Del Chieti Torbidone Della Miternina Marini del Giulianova E Rapino Del San Nicolò La Miternina È esonerato L'allenatore Vincenzino Angelone Che siedeva Sulla panchina Da sei anni Al posto del tecnico Aquilano A meno di clamorosi Dietro fronte Arriverà L'ex Allenatore del Teramo Candido Di Felice Il basket Nella serata di venerdì Byron Allen Pierpaolo Marini E Kyle Weaver Giocatori del Roseto Sharks Saranno camerieri Per una sera In favore della solidarietà Difatti Grazie alla collaborazione Del Victory Pub Di Roseto Gli amici di Dimensione Volontario Saranno beneficiari Di una particolarissima Raccolta fondi Grazie proprio Alla presenza Di questi insoliti camerieri Cioè tre giocatori Tre beniamini Del Roseto Basket Questa sera Alle 20.30 Il basketbol Teramo Sarà a Chieti Per cercare di conquistare Una vittoria Che vorrebbe dire Giocarsi un posto In semifinale Playoff In gara 3 A Teramo Parliamo di Serie C Silver Dopo la sconfitta In gara 1 Infatti Ai ragazzi di Cocce di Francesco Servirà Una grande prestazione Per battere il Magic E Chieti E giocarsi la possibilità Di qualificazione Poi al Palace Capriano di Teramo L'11 e 12 marzo Al Badriatico Ospiterà la manifestazione Euro League 1 Uno dei tre appuntamenti Di qualificazione Alle coppie europee Che si svolgeranno In contemporanea In Spagna Francia Italia Evento organizzato Dall'amicacci Giulianova Su incarico Della federazione europea Parliamo di basket in carrozzina Grosso riconoscimento Quindi per l'amicacci Giulianova Che è entrata a far parte Del numero ristretto Delle squadre Che compongono L'elite Del basket europeo In carrozzina I confronti Direi Euro League 1 Designeranno le sei squadre Che si affronteranno A maggio In Germania Per la conquista Della Champions Cup La coppa dei campioni Di basket in carrozzina Nell'appuntamento Di Alba Adriatica Le sei squadre partecipanti Arriveranno Da Turchia Il Galatasaray Di Istanbul Dalla Francia Il Meo Di Parigi Dalla Spagna Il Gran Canaria E dall'Italia La Micacci Giulianova E il Briantea Dopo Mestrino La Gomero Team Teramo Batte anche in oro E conquista matematicamente La salvezza Parliamo ovviamente Di palla a mano Ascoltiamo le interviste Post gara Al tecnico Serafino Labricciosa E alla giocatrice Natalia Viniucova Serafino Labricciosa Innanzitutto È arrivato matematicamente La salvezza In questo campionato Primo obiettivo raggiunto Ora naturalmente Il prossimo obiettivo È quello di conquistare Il quinto posto finale In questa Serie A1 Cioè Vincere questa pur retrocessione Sì sì Chiaramente Era importante Vincere queste due partite Che avevamo in casa Per riprendere soprattutto Un po' di convinzione Un po' di morale Che io Avevo detto Secondo me Noi avevamo fatto già Una buona Coppa Italia Però Purtroppo poi La partita con Ferrara Ci aveva tagliato Un pochino le gambe Quindi Abbiamo vinto con Mestrino Abbiamo vinto E convinto Noi stessi oggi Che Possiamo provare a fare Dei risultati Sono tutte partite difficili Perché sarà difficile Difficilissima scena Poi sarà difficile Con il Casal Grande Poi il derby Però dobbiamo provare Il nostro obiettivo È quello di arrivare Quindi Quindi ci dobbiamo provare Fino alla fine Natalia Viniucova Miglior realizzatrice Della sfida contro Nuoro 14 gol all'attivo Insomma una bella prestazione Per te Sì Come ho saputo adesso Sì È una bella partita Grazie No mi ha aiutata Tutta la squadra Abbiamo giocato bene Tutti insieme Come tutta la squadra Siamo state Bravi Tutte Secondo me Non posso dire Che qualcuno Ha sbagliato No Abbiamo giocato tutte Aggressivo Bene Tranquillo in attacco Taticamente È andato bene Abbiamo fatto tutto Che è detto Serafino Oggi è arrivata La matematica salvezza Ora puntate al quinto posto In questo campionato Cioè ad arrivare Come prima squadra Di questa pur retrocessione A vincere tutte Insomma le partite Sai che non è importante Che arriviamo oggi È importante Quando arriviamo Dopo altre tre partite È importante Alle fine Non adesso Perché Per noi Giochiamo Lo stesso Se giochiamo come oggi Ci arriviamo Io spero Che facciamo tutto Oggi è segnato 14 gol Gli stessi gol Della capocannoniera Del campionato Perché la Gomez Non è riuscita A fare meglio di te oggi Non è importante Chi fa di più gol Importante chi gioca Con la squadra E chi gioca bene Perché tu puoi fare 20 gol Nella partita Ma tu puoi perdere Con la squadra Allora è meglio fare 5 Ogni Ogni Fa 5 gol E vinciamo insieme Questo è importante Bene Chiudiamo questa edizione Del nostro telegiornale Vi ringrazio l'attenzione Vi ricordo domattina Alle 7 puntuali All'appuntamento Con Prima di Tutto Grazie Buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti